Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui con mio fratello per decorare e mettere le lucine per Natale. Abbiamo due tipi di lucine. Abbiamo queste che metteremo lì sull'albero, anche se l'albero voi non lo vedete. E queste che metteremo sotto al portico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, ieri abbiamo messo le lucine, mentre adesso decoriamo il cancello. Abbiamo delle palline rosse dorate e poi metteremo delle foglie di agrifoglio. Mio fratello è andato a tagliare i rametti di pino, mentre io taglierò quelli dell'agrifoglio. Allora, ieri abbiamo messo le lucine. 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 Grazie a tutti. Se vi è piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale. E se volete seguitemi su Instagram e vi lascio qui sotto il nome. E se volete seguite anche mio fratello su YouTube che si chiama Stefano Barogno. Grazie a tutti.